Buonasera a tutti, in grado di cercare vedere la sala del circolo Gramsci così affollata di persone sicuramente motivate e interessate. Questa sera abbiamo degli ospiti che ritengo abbastanza importanti, decisamente importanti, partendo da mia sinistra il ex sindaco di Bologna, il ex sindaco di Bologna Valtavitali che immagino tutti conosciamo, alla mia destra Andrea De Maria, poi segue l'assessore Matteo Lepore e il nuovo assessore metropolitano, il bilancio e il personale Marco Monesi. Il conto è organizzato dai quartieri delle unioni Porto-Santitale, Serragozza e Reno, quindi è la prima iniziativa che facciamo sotto forma di una sinergia tra quartieri di unioni diverse del Partito Democratico. In precedenza sono gesto che svolte varie iniziative sulla città metropolitana, diciamo che questo nuovo ente che è entrato in funzione dal primo di gennaio ufficialmente ha avuto un suo iter abbastanza lungo nel tempo, è paudato con la legge da rio, ha una sua formazione, una sua costituzione e sta entrando in funzione nel senso pieno. Nel dibattito precedente sono state levate alcune opportunità e alcune criticità, direi che su questo che stasera al di là del fattore tecnico e informativo su come funziona la città metropolitana è stato bene che ci soffre Massimo, anche chiedendo un intervento ampio da parte vostro con osservazioni, domande, relatori e comunque elementi vari. Volevo tracciare due questioni che sono emerse negli incontri precedenti che secondo me sono abbastanza relevanti. Da un lato il fatto che, molti hanno così dato indicazioni, si crederebbe che ci fosse un sindaco metropolitano non come elemento che emerge, una funzione che emerge da una elezione di secondo livello, di secondo grado, ma come elezione diretta da parte della cittadinanza. Questo vi darebbe una certa legittimità superiore, secondo molti, che sono intervenuti nelle volte precedenti. Questo è un problema su cui chiamiamo evidentemente a riflettere sia voi, sia ai nostri ospiti. Poi il discorso della regione, le competenze della regione. La regione non ha ancora completamente portato a termine l'iter, per così dire, legislativo che deve supportare questo nuovo ente. Altro elemento molto grave, grosso, critico che è emerso è la collocazione del personale degli enti locali, quindi che deve essere in qualche modo riallocato, ridistribuito all'interno di questa nuova situazione. Poi c'è il discorso sullo statuto, quindi ciò che norma per così dire la città metropolitana stessa e il ruolo delle autonomie che si trovano ad agire in una nuova sinergia e quindi il problema di regolamentazione. Poi c'è il discorso della pianificazione strategica, perché evidentemente non è più ciascun comune che agisce in veste propria, ma bisogna agire su una base di tipo diverso. Nodo caldissimo quello delle partecipate, le società partecipate dei vari comuni tipo ERA, Aeroporto, Fiera, quindi come possono agire in questo contesto. Il regolamento urbanistico è legato a questo, il discorso dello sviluppo sostenibile del territorio, lo sviluppo economico e sociale dei territori stessi, la mobilità e viabilità, sto facendo una specie di rinco per così dire delle situazioni, i servizi pubblici sia alla persona sia servizi pubblici in senso generale e ultimo, ma discorso molto grave che è emerso ultimamente, il problema della legalità. Quindi abbiamo presente il discorso sull'interazione mafiose che è emerso da recenti fatti con rilevanza giudiziaria e penale, direi che questo funge da collante, anzi bisognava che ci liberassimo di questo, di tipo trasversale a tante tematiche che sono pienamente attenente alle città metropolitane. Allora la parola per primo al senatore Walter Vittagli, il quale ci propone una serie di slide che ha utilizzato anche nel corso di formazione per i nostri parlamentari e amministratori a Roma a livello nazionale, quindi abbiamo per così dire una lezione molto qualificata questa sera e di cui lo ringraziamo. Formazione che è stata organizzata assieme ad Andrea e da Maria che come responsabile nella Secretaria Nazionale del Partito Democratico appunto per la formazione direi che è un agitivo ottimo perché ha avuto modo di vedere le registrazioni effettuate quindi direi che possiamo passare la parola al senatore d'Italia. Grazie a voi per mantenermi un quarto d'ora.